Buongiorno a tutti! Come state? Ok, ora devo tornare, non vale, non urlo più, promesso. Come sentite c'è vento? Perché dove siamo? Primo giorno di mare. Mare è una parola grossa, del 2021. Tata, sei pronta a vedere com'è la spiaggia quest'anno? Magari è bellissimo, la vanno rivoluzionata. No, siamo a Iasolo perché è primo giorno di zona yellow, quindi possiamo muoverci tranquillamente. Io non so neanche se mi state sentendo perché fa veramente tanto, tanto vento. Però ora prendiamo, andiamo in spiaggia, vediamo com'è, siamo già arrivati quasi. Fa tanto, tanto freddo però. Ci siamo quasi, magari facciamo così, così magari non sentite il vento, non lo so. Speriamo bene, ci siamo quasi, guardate, guardate. Siamo in spiaggia. Sei pronta, ti metto giù, Tata? Vieni giù con me, uno, due, tre, hopla! Sei pronta? Dai, amore! Corri, corri! Wow! Ora è il duro, vedo. Io devo levarmi le scarpe. Amore, vieni qua che leviamo tutto. Madonna, c'è troppo ciliente. Sembra una giornata di spiaggia, ragazzi, guardate. Vieni, amore mio, leviamo la scarpetta. Auri, vieni che leviamo la scarpetta. Auri, com'è? Dai che è la prima volta che mi viene la sabbia ufficialmente. Amore? Auri? Aurora? Sì. Non mi caga. Non mi vada, amore. Com'è? Ti piace? Wow! Ma quanto sei carino quest'oggi. Se fa la brava, poi andiamo a sentire anche la quitta con i piedi. Anche se... Adesso faccio abbastanza spesso. Stai guardando quelli che giocano con i raglintoni. Non puoi giocare, sei ancora troppo piccola, sai? Sei ancora troppo piccolina per giocare con i raglintoni. Amore, hai visto l'acqua? Andiamo a sentire l'acqua, vuoi? Vuoi che andiamo a sentire l'acqua? Dai, corri, corri. Dai, Audi. Dai, amore. Piano piano, stiamo arrivando alla quetta. Tira dritto, dai. Ci siamo quasi, manca solo tipo 200 metri. Dai che ci siamo. Corri, corri, corri. Dai che andiamo a sentire l'acqua. Secondo me è qualcosa di bellissimo. Manina, papà, piano piano. Piano piano, c'ho le conchiglie. Piano piano, 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 piano. Ai, i piedini. Dai che ci siamo, amore. Dai, 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 dai che ci siamo. Dai, dai, dai. Le couture della vita. Quando tu fida ti dà la manina per più di 20 secondi. Come, amore, è freddo, vero? Dai che c'è la qui. Guarda, ci sono anche i cagnolini. È fredda, Manu? Sarà congelata, vero? No, dai, senti la bella calda. Wow. Com'è? Com'è? Fresca? Wow. Che bello. Tata, mi devo accucciare piano piano. Com'è la qui. Com'è la qui. Ti piace? Ti piace? È qualcosa di bellissimo, vero? Eh sì. Qualcosa di davvero, davvero bello. È la prima volta che sei cosciente che vi nel mare. L'anno scorso era tanto piccola, secondo me, quindi non si ricordava niente. Però è bella, vero, la qui. Aspetta. Oh, guardate la cagnolina. Amore di papà. Auri. Fai, fai così coi piedini, fai così coi piedini. Via, via, via. Fai così coi piedini. Batti, 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 batti. Aspetta che papà si tira sui jeans. Batti, 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 batti. Piano, 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 ti bagni tutta. Auri, aspetta. Ti bagni tutta, ti prego, no. Cos'è? Vieni che andiamo più là. Vieni, vieni la manina a papà. Andate che arriviamo qua sul mare grande. Lascia andiamo a farci il bagno. No, fa troppo freddo. Piccola Aurora verso il mare aperto. La margine è già fermata. Perché? Quanto è bella la salvietta. No, Aurora, è tutta spaventata. Com'è la salvietta? Bella. Wow. Hai visto che strana. Non è sempre uguale tutti gli anni, te lo garantisco. Non cambia tanto. Cambia magari solo la temperatura ora come ora. Ma come ci divertiamo con poco? Dove vai? Auri, corri! Vai, Tata! Corri, corri, corri! Oddio, che fredda che qua. Vai, amore! No, vai salviettina. Torniamoli qua, vieni. Dio, che dolore. Auri! Corri, 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 corri! Vai, amore! No, si è mangiata tutta! Beh, che dire. Sono tornato a casa. Ho riposato. Ed è un altro giorno. Sì, perché non vi ho salutato in spiaggia? Perché qua il tempo è pazzo. Cioè, come avete visto, c'era il sole. Però tirava tanto, tanto, tanto vento. Il problema è che all'improvviso hai cominciato a pioviginare. E quindi abbiamo dovuto prendere la macchina e scappare via. Però prima del tutto, ovviamente, Aurora poteva o non poteva fare qualcosa di birichino. E sì, l'ha fatto. Cosa ha fatto? Praticamente avete visto come giocava in acqua. Ok? Finché si bagnava la gambetta sotto, dici, nessun problema. Poi le strizzi un attimino o le cambi il pantalone. Il problema è che lei si è accucciata come per raccogliere qualcosa. E quindi tutto il culetto, tutto il pannolino. Hanno assorbito l'acqua del mare. Ed era zuppa, zuppa, zuppa. Poi, come sapete, ovviamente, quando i bambini sono bagnati incominciano a piangere. Quindi prendi, cambia la ricordi di là. Il tempo che l'abbiamo cambiata. Abbiamo fatto un aperitivo veloce. Sì, anche Aurora ha fatto l'aperitivo. Siamo mangiato un pezzo di panino. E siamo dovuti scappare via a casa. Non ho più registrato ieri perché comunque era brutto. Quindi quest'oggi, con questo sole, non sole, vi chiuso il video. Io continuo a ringraziarvi sempre per tutto il supporto che ci date. So che non sto avendo una costanza spaventosa su YouTube. Però è difficile trovare idee. E soprattutto, tante volte, per la forza di registrare. Un pochino alla volta. Vi chiedo solo tanta pazienza. Arriveremo ad avere la costanza di una volta. Mi raccomando, però, iscrivetevi al canale. E attivate la campanellina in modo da non perdere nessun video. Giusto, piccolo nano? Giusto, giusto. Perché noi cercheremo di esserci sempre, tutti i giorni. Con appuntamenti solo, solo, solo divertenti. Con tante piccole pazzie. E ultimamente, anche con tanti piccoli scherzi a tutte le persone che si circondano. Perché tanto, chi se ne frega. Sanno che loro non possono farlo meno a me. Perché se dopo loro lo fanno a me, io glielo faccio quattro volte più forte. Quindi, chiunque riceve uno scherzo che guardi questo video, non provate a farlo a me. Altra cosa super, super, super importante. Sapete che sto lavorando a una cosa per voi. È una cosa che c'era sempre stata nel canale. Ed è la intro. Sarà molto, molto diverso da una volta. Ci sarà una cosa che c'era una volta. Eh, non voglio svelarvi i dettagli. Perché comunque a quella determinata cosa ero tanto legato. L'avevo trovata io. E quindi ci tenevo davvero, davvero un sacco ad averla anche su quella nuova. Però sarà una intro davvero, davvero, davvero bella. Che durerà per quasi 5-6 mesi. Perché poi comunque verrà aggiornata sempre costantemente. Premetto che all'inizio non ci sarà anche la sigla finale che c'era una volta. Perché comunque sapete che la tradizione è quando arriva la nuova intro, quella vecchia va nel finale. Però, ora come ora, intanto facciamo arrivare la intro principale. Poi, un giorno, quando cambieremo anche la intro iniziale, quest'ultimo andrà nel finale. Quindi, tempo al tempo. Ci vorrà tempo, però vedo che comunque stiamo continuando a salire. Vedo che i contenuti vengono sempre apprezzati. Vi ringrazio un sacco. Continuate a lasciare tanti like. Continuate a scriverci qua sotto nei commenti che video volete vedere nel canale. Se anche poi non ve li porto, magari potrebbe essere un'idea. Potrei prendere spunto da quelli. Quindi, aggiornatemi tantissimo qua sotto nei commenti. Io ve li leggo tutti, ve lo garantisco. Non riesco a rispondere, quindi per correttezza. Non rispondo a uno, non rispondo a tutti. Altrimenti non sarebbe corretto. Però voi scrivete tutto, tutto, tutto qua sotto nei commenti. Io leggo sempre. Beh, che dire, qui da Mike, Bau, e allora è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!